buongiorno amici benvenuti sul mio canale nella mia cucina oggi prepareremo una ricetta in collaborazione con il negozio di surgelati la boutique di surgelati che si trova a pastena quindi prepareremo insieme un piatto di spaghetti misto mare ora vediamo come procedere con la ricetta che è molto semplice facile e veloce avrete un primo piatto con questo misto mare velocissimo cotto in appena 15 minuti quindi seguiti la ricetta e fatemi sapere se vi piace in una casserola mettiamo tre cucchiai di olio due specchietti d'aglio e il gambo del prezzemolo a soffriggere dopo qualche istante metteremo il nostro misto mare che ho comprato la boutique dei surgelati lasciamo soffriggere giusto qualche istante aggiungiamo due bicchieri di vino bianco e facciamo cuocere il vino bianco serve ad aiutare la cottura aggiungeremo anche 5 6 pomodorini e una bella mangiata di prezzemolo nel frattempo mettiamo la pentola con l'acqua e quando il sughetto è pronto condiviamo la nostra pasta il sughetto pronto non ci resta che condire la pasta